Salve a tutti, io sono Fabio Antonacci, autore di Bloggeriglia, un blog di Gueriglia Marketing. Non vi parlerò di come la mia attività da blogger ha migliorato la mia vita, che l'ha sicuramente fatto, ma di come è migliorata quella delle aziende che hanno deciso di utilizzare i social network in modo non convenzionale. Si parte da un'idea, lo diceva anche ieri Marco Montemagno al termine di un'intervista, riuscire a trovare quei metodi alternativi che sappiano far parlare il prodotto o l'attività o l'idea che si deve per l'appunto promuovere. Questo perché? Perché il posizionamento del brand sul social network deve essere il frutto di una strategia ben pianificata, non deve essere né un'imposizione né una scelta obbligata. Questo perché? Perché probabilmente è meglio non esserci che esserci se non si ha nulla da proporre per coinvolgere il nostro pubblico. Un elemento centrale è la creatività, saperla utilizzare sia nell'approccio sui social network, ma anche nella generazione dei contenuti e soprattutto nel modo in cui decidiamo di proporgli ai nostri interlocutori. Questo perché? Perché il coinvolgimento degli utenti non è direttamente proporzionale al numero di persone che seguono il mio profilo, fanpage o gruppo, non è una questione di quantità ma di qualità, dipende da quanto l'azienda sa realmente prendersi cura degli interlocutori e quindi del proprio pubblico. Ecco che dalle ultime statistiche di Facebook, tra i 400 milioni di utenti attivi e i 3 miliardi di contenuti mai condivisi e prodotti sui social network, aumenta anche il numero di fanpage e business. Siamo arrivati a 1.500.000 pagine business. Come riuscire quindi a farsi notare? Bisogna differenziarsi, distinguersi da questa mole di contenuti che vengono condivisi e diffusi da una parte all'altra della rete, ma soprattutto sapere che non ci si può posizionare sui diversi social network nello stesso modo, perché ogni social network ha delle sue caratteristiche. Adattare quindi il prodotto perfettamente al mezzo su cui ci stiamo posizionando. Twitter lavora in modo differente rispetto a Facebook che lavora in modo differente rispetto a Framefeed. Quindi differenziare i contenuti anche in seconda del mezzo su cui ci proponiamo. Confezionare. Confezionare significa anche utilizzare in modo alternativo quelli che sono i canali, le features riconosciute di uso comune, anche le tag o gli status o i profili di persone realmente esistenti possono diventare una strategia di comunicazione. Creare intrattenimento. Il brand e il pubblico dialogano all'interno di una storia, ma soprattutto il pubblico diventa parte attiva e protagonista di quello che è la storia raccontata dall'azienda. Far sì che poi questo pubblico che noi in qualche modo intercettiamo diventi a sua volta diffusore di condivisione, riesca in qualche modo a condividere un elemento perché l'ha considerato in qualche modo interessante. L'autopratico che cosa vuol dire questo? Vi faccio alcuni esempi. Oddi.com è un sito che nel 2008 ha recensito le 10 storie più incredibili mai apparse su Facebook. Spunta tra queste in alto un'attività di guerriglia marketing per la promozione di un film, Faceboom. Che cosa è successo? Che la trama cinematografica è stata totalmente, interamente adattata su Facebook. Antonio e Valeria, che erano i protagonisti della storia di questo film, hanno preso vita attraverso due profili pubblici che hanno scenato una storia di gossip che ha generato qualcosa come 150 articoli solamente sul web. Oppure si può decidere di creare un'applicazione per Facebook, come ha fatto Whopper Sacrifice. Elimina 10 amici dalla tua lista contatti e riceverai un panino gratis Whopper. 90.000 download dell'applicazione e 230.000 contatti sacrificati. Oppure fare come ha fatto Ikea, che ha sfruttato il meccanismo delle tag. Ogni persona che andava a taggare con il proprio nome, l'armadio o il prodotto che usciva fuori dal catalogo, poteva andarlo a ritirare gratuitamente il giorno dell'apertura del negozio di Malmo. Altra piattaforma, Twitter, lavora in modo totalmente differente da Facebook. Un carattere fondamentale, 140 battute per scrivere un messaggio, ma soprattutto il 97% degli utenti non supera i 100 followers. Come far parte di quel 3%? Feltrinelli ci è riuscita proponendo un concorso di micro letteratura per scrittori concisi, che hanno partecipato con un racconto o un aforismo di 128 battute, le migliori 128 sono state poi pubblicate in un volume. Oppure fare come ha fatto Grounds Coffee, un bar a Houston in Texas, che ha iniziato a prendere ordinazioni a domicilio dopo che c'era stata la richiesta di un utente direttamente sul wall dell'azienda. A quel punto che succede? Che ciclicamente vengono organizzati dei Twitter party solo ed esclusivamente per gli utenti Twitter che seguono il profilo di Coffee Grounds. Oppure che cosa succede? Che tutte queste storie hanno 5 elementi chiave che li accomunano. Non ho cercato di metterli in ordine di importanza perché secondo me sono tutti importanti allo stesso modo. Partecipazione, condivisione, passaparola e engagement. La comunicazione digitale migliora la vita? Io penso di sì. Questo è il luogo fisico da cui per la prima volta ho iniziato a scoprire questo fantastico mondo virtuale. Vi lascio quindi al mio blog www.bloggerriglia.it Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.